ciao ben ritrovato abbiamo visto ieri l'allenamento di madi della sede di panzeri col quale abbiamo allenato tutti i gruppi muscolari con esercizi globali ovviamente non facendo l'esercizio specifico per ogni gruppo muscolare ma con gli affondi si fa un po tutto con il push up si allenano tutti i muscoli estensori del tronco eccetera oggi passiamo alla sede di ivy abrioski con il responsabile andrea responsabile fit coach della sede che ha pensato per noi ad un circuito di addominali anche qui come per altri allenamenti visti in questi giorni non si tratta di un fit poi da 20 minuti anche se volendo puoi fare 20 minuti di soli addominali in realtà il circuito sarà un pochino più breve sono comunque cinque esercizi per una decina di minuti indicativamente anche perché 10 12 minuti per un solo gruppo muscolare sono sufficienti direi se sei comunque allenato nessun problema a fare qualcosa in più quindi lascio spazio a lui che ti farà vedere i cinque movimenti di oggi nella didascalia sotto trovi le modalità di esecuzione ti anticipo che come settimana scorsa sabato e domenica siamo fermi quindi ti auguro un buon weekend e ci vedremo lunedì con Luca che è responsabile della sede di vertemate che è uno specialista dell'utilizzo della pancafit e quindi vedremo come fare pancafit a casa senza avere una pancafit quindi utilizzando ciò che è a disposizione ti lascio ad andrea e ti auguro buon allenamento sempre in forma ciao 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 ciao